Ebbene si, non avete capito male, ma sono ritornato su GTA V Mamma mia, da quanto tempo che non ritornavo su GTA V Perché l'ho comprato e insomma... Eccoci qui Mi ha salvato i progressi, perché nella Playstation si salvano, ma non si salvano nel disco Perché si salvano nella Playstation Cosa andrò a fare? Io andrò a fare una bella garetta Quindi, io direi, via, andiamo su attività, partita veloce Avvio una gara Yes Ok, abbiamo una bella garetta, vediamo adesso qui cosa ci dà Intanto, come avete visto, il mio superattico Ho quasi 3 milioni di dollari Ed è molto molto buono Ok Ah, in B ci si fa Ok, aspettiamo Ragazzi, sentite delle voci? Vuol dire che la chat vocale è accesa Quindi non vi fate problemi che appena posso la disattivo Allora, BMX Se no c'è questa, c'è questa Bella Questa Eh, saluta Conferma Vediamo, visualizziamo i giocatori che ci sono Continua Perfetto Arma inizia Ah, ma ci sono anche le armi Vabbè, pronta a giocare Visualizza altri giocatori Non li favo a visualizzare Vabbè Ok, allora ci siamo Andiamo dentro Alla gara Intanto sti tizzi si parlano Non ho guardato la mappa Quindi non so com'è la gara Via Via, 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 via Ah, c'è anche la resistenza Si può prendere Si possono prendere armi Via Andiamo di qua Andiamo di qua È vero, c'erano le scalette Oh, miseria Ok Vedete, sono indietro Perché mi sa che hanno sbagliato Via, via Passiamo sotto qua Ok Eh, si stanno ammazzando Ok Andiamo per di là Sentirei di spammare un po' X Perché, insomma, sto correndo Via, via, via Abbiamo perso un po' di tracciato Devo stare attento Perché se ce li ho dietro Mi sa che mi sparano Ok Ok, me la cavo allora, eh Me la cavo ancora Ok Ok, scegliamo quell'arma lì La mitagliatrice lì Il fucile è compatto Cos'è? Ah, c'è il traguardo? Era molto più facile Di quanto pensassi, allora Olè Abbiamo vinto La gara Yes E vediamo gli altri un attimo Che cosa stanno a fa Ok Filtro Ah, è vero Si possono cambiare i filtri Ok, mettiamo questo Sospetto è un noto criminale Conoscito come Rob Alun Ah ah Si è incastrato Ah 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 Guardiamo l'altro un attimo Fra qui è Fra, dove sei andato? Ma 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 Ok Si danno soldi Giusto? In teoria si Perché denaro C'è ancora zero dollari Però credo che Me li danno a fine partita Dai che ce la fai Che non so chi è questo Credo che sia il secondo Che lento Beh, questo l'hanno sparato Infatti Arrivato primo Si si Mi danno i soldi a voglia Tempo Minuto Cinquanta Cinque Ok 1640 di denaro JP 15 Ok Ci facciamo anche Una barretta Mini Di livello Proprio Mini Olè Arrivederci Beh Mamma mia Era un livello 78 Ok Allora Andiamo avanti Facciamo l'ultima Garetta Io direi questa Ha già scelto Il multiveicolo Ok Va bene Eeeh Non mi cambia Andiamo a fare questa Garettina Che è da tanto Che non le faccio Mamma mia Ragazzi Avevo una Nostalgia Che non sapete In sto gioco No La canzone no Ok Questi sono entrati Sta entrando Abbiamo il livello 121 E' entrato Quindi mi sa che Ci farà un po' Di maletto Distruggi l'ultimo Ogni giro Ah Mannaggia E allora è la gara Eliminazione Questa Ci sarà Da divertirsi Allora Bello Dai Oh Sta via Please Abbiamo un livello 213 Un livello 173 My gosh E l'host È un livello 9 Quindi mi sa che L'host Lo stracciano un po' Lo stracciano Con lo straccio Mappa Bella tosta Ok Avvio sessione Good Ok Allora Una moto Io prenderei Labati C'è anche la Shotaro Prendiamo la Shotaro La bianca Mi piace un casino Però Io la faccio Arancione Che visto Il mio Colone Preferito Anche a lui Mettiamo Arancione Se c'ha Beh Questa che Si avvicina Un po' Di più Aperto No Mettiamoci il casco Saluta Conferma Continua Dato scommesso Io non scommetto Niente Grazie Mi dispiace Vediamo gli altri Vediamo chi scommette Questo è scommesso 1000 dollari Mamma mia C'è Solo lui è scommesso Vabbè Io non scommetto altro Via Si parte Ok Con gli aerei Si parte Si parte Con gli aerei Molto bello Via Via Turbo Oh Oh Quello è scoppiato Oh Oddio Non chiedetemi Cosa ho fatto Non so neanche io Oh Allora Questo è tosto Quello che abbiamo Detto è tosto Vuole ucciderci A tutti i costi Sento esplosioni Da tutte le parti L'affortuna Che me la cavo Ancora A guidare Ok Via Ho toccato subito Terra Quindi è buono Corri Corri Siamo terzi Questa ha fatto La curva Molto stretta Anch'io un po' Ma non troppo Via Destra Eh ragazzi Scusate ma Non riesco a togliere La musica Ora Quindi Vabbè Perché ho Quattro stelle Aiuto Ah perché siamo È vero Siamo sopra L'aeroporto Ecco perché C'è un po' Di video In questo copyright Però vabbè Abbiamo la polizia sotto Oh mio dio Infatti Ma dove la togliere La polizia Perché non l'ha tolta Mannaggia Ok Non corrono Proprio niente Sti camion Ecco perché Ci ha messo Questa Per togliere La polizia Oh Eh Andate via Ok Ok la moto No Oddio Ok lo so ancora Usare No No Ma C'ha le ali Aperte Sì Eh lo so Che direzione Sbagliata No la musica Mannaggia Eh vabbè Devo togliere Proprio tutto L'audio Però ora Non posso Perché Perdo Sono arrivato Terzo Mi ha fregato La posizione A quello Perché Non so cosa Ha fatto Ah questo Non gioca Scusate No Questo Non gioca Ha deciso Di Non giocare Ma no Il profilo Ok Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno Arrivederci Ok Arrivato terzo Infatti Vabbè dai Buono Lo stesso Buono Lo stesso Ma non mi hanno dato i soldi Come mai Non mi hanno dato i soldi Perché Non ho vinto Ecco perché Ah no Denaro 2920 Ok Ok Me l'hanno dato Quello che ha vinto 7000 Me l'hanno dato Free mod Io esco Ok Maria Io esco Insomma Spero che questo video Vi sia piaciuto Tornerò a fare molte gare di GTA Ragazzi Quindi Lasciate like Supportatemi Così le farò Non l'ho mai detto Ma Se arriviamo a Cinque like Porterò un'altra gara Non vi ho mai detto Quanti like fare Ora Li fate Quindi Mettete like Arriviamo a cinque like E facciamo un'altra gara Su GTA 5 Quindi Iscrivetevi Se non siete Nei ancora iscritti Attivando la campanellina Commentate Per Non so Per dirmi Se vi mancava anche voi GTA Una buona giornata a tutti Ci si rivede In un prossimo video E Bella Scrivetevi Scrivetevi Scrivetevi